Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo oggi con la politica. Sostenuto per ora soltanto da una lista civica, scende in campo per le amministrative a Brindisi anche l'avvocato Roberto Fusco. Stefania Franciosa lo ha intervistato a poche ore dall'ufficializzazione della sua candidatura alla carica di sindaco. Vediamo. E dunque ufficiale nella campagna elettorale per le amministrative a Brindisi del 6 e 7 maggio prossimi scende in campo anche l'avvocato Roberto Fusco. Sarà lui a rappresentare il gruppo di cittadini che nelle settimane scorse aveva lanciato il manifesto per la città. Più che scendere in campo io, scende in campo questo gruppo di cittadini di tutti i tipi e di tutte le età. C'è anche un patto intergenerazionale perché raggruppiamo anche ragazzi di 30 anni, 38 anni che è la prima volta che si affacciano alla politica, volti completamente nuovi. Hanno deciso loro e io gli sono al fianco, sono il loro candidato. Spero di combattere bene. Al momento nessuna alleanza ha spiegato ai nostri microfoni l'avvocato Fusco, smettendo le voci di questi giorni. Fino a ieri sera questo bambino non era ancora nato. Dirgli chi sono i suoi compagni di dicevo un po' presto, vedremo. Sarà sempre come sempre il gruppo di cittadini che deciderà. Io sono solo il loro rappresentante. Qual è intanto il progetto di città che volete? Il progetto di città è quello del manifesto per la città che è stato lanciato 20 giorni fa e che è passato già alle tv alla stampa. Basta con la svendita del territorio, basta con la logica del subappalto, no a ricassificatore, incremento delle attività commerciali, agroalimentari, dell'industria tecnologica avanzata e anche ecocompatibile. grande recupero della legalità e della partecipazione dei cittadini. Intanto si prospetta, è inutile negarlo, una campagna rovente. Immagino che stia comunque seguendo i fatti che si stanno verificando all'interno delle altre coalizioni. Sì, ma le devo essere sincero. Spero che la nostra partecipazione la renda meno rovente. Perché noi parleremo solo di programmi. Parleremo principalmente di programmi. Non ci interessa particolarmente poltrone o altro. Quindi non dobbiamo fare accordi roventi con nessuno. Tutti quelli che ci stanno col programma saranno esaminati senza pregiudizi e senza preclusioni. In lista avremo professionisti, medici che sono sia di sinistra che di destra. Ma pensa che ci sia un po' di confusione nella politica della città? Beh, non solo della città ma anche nazionale. È un momento di balcanizzazione della politica. Si disgrega un vecchio mondo politico. Infatti siamo solo all'inizio di notevoli cambiamenti ed è per questo che tutti i cittadini devono partecipare. Nel momento in cui crollano i vecchi partiti tradizionali è necessaria una maggiore partecipazione dei cittadini. Ma ad oggi cosa si aspetta? Mi aspetto che la città possa esprimere le migliori candidature possibili in qualunque partito. Non solo nella mia lista ma in qualunque partito in modo che il prossimo Consiglio Comunale sia di adeguato livello in modo da poter decidere e guidare la città in momenti difficili non solo per Brindisi ma in campo nazionale e internazionale. I temi affrontati dal candidato sindaco Roberto Fusco saranno approfonditi nel corso di una trasmissione condotta lunedì prossimo dal direttore Tonino Saponaro. Dalla politica alla cronaca proseguono incessanti i controlli della squadra mobile di Brindisi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni criminosi. Nella mattenata di oggi il personale della sezione antirapina ha effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti del 41enne pregiudicato Tom De Tommasi soggetto già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. All'interno della sua abitazione di Tuturano in contrada a Torre Rossa è stata rinvenuta in un cassetto in camera da letto una pistola calibro 9 completa di caricatore lo vediamo nella foto con 6 colpi inseriti. Inoltre all'interno di una busta in plastica erano custoditi altri 3 colpi calibro 7 e 65. I successivi accertamenti condotti anche con l'ausilio del personale della polizia scientifica e dell'armiere della polizia di Stato hanno fatto emergere come l'arma fosse perfettamente funzionante pronta quindi per l'utilizzo. Sulla base degli esiti investigativi De Tommasi è stato quindi tratto in arresto per detenzione illegale di arma da fuoco e tradotto già presso la locale casa circondariale a disposizione del pubblico ministero di turno il dottor De Nozza. Accertamenti proseguono anche al fine di verificare le motivazioni per le quali detenesse l'arma De Tommasi anche in considerazione della circostanza che lo scorso 8 gennaio presso l'abitazione del pregiudicato furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Ancora cronaca, i militari del reparto navale delle Fiamme Gialle all'esito di complesse e articolate indagini in materia di tutela dell'ambiente hanno sottoposto a sequestro un'area di 200 metri quadri adibita a discarica abusiva nei pressi del litorale nord della costa Brindisina. Nel sito sono state sequestrate parti di ricambio di autovetture ed Eternit per complessivi 20.000 kg di rifiuti speciali pericolosi e non. Conseguentemente al primo intervento le indagini operate hanno portato all'individuazione di un'autocarrozzeria dove un'ulteriore area di 100 metri quadrati circa è stata sequestrata per violazione della normativa ambientale. A tutela dell'ambiente al fine di prevenire l'inquinamento in ambito portuale è stato infine rimosso e avviato la distruzione un peschereccio che sequestrato nel 2009 nel mese scorso è stato interessato da un incendio mentre era ormeggiato presso il canale Fiume Piccolo nel porto di Brindisi. Ritorniamo proprio a Brindisi presidio antifascista questa mattina in piazza Cairoli un'iniziativa nata per contestare il volantinaggio del Movimento Nazional Popolare che era previsto proprio per oggi. Stefania Franciosa Si sarebbe dovuto tenere oggi il banchetto volantinaggio promosso da Movimento Patria Nostra Forza Nuova Movimento Nazional Popolare Nuovo Ordine Nazionale previsto a Brindisi in piazza Cairoli la prima di una serie di iniziative contro il governo Monti e la classe politica italiana contro le liberalizzazioni selvagge contro l'immigrazione incontrollata contro lo strapotere delle multinazionali a fermare i movimenti forse in maltempo ma l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Brindisi si dice convinta che ad impedire la manifestazione sia stata la decisione di un presidio antifascista a cui hanno aderito oggi numerose associazioni del territorio. Grazie anche alla mobilitazione e alla presa di posizione di una buona parte della società civile Brindisina con tutte quante appunto le loro adesioni al nostro appello i neofascisti non si sono presentati questa volta noi appunto richiediamo che non vengano dati spazi a chi ha dato ultimamente come nel caso appunto quando c'è stata l'emergenza dei profughi qui il 16 aprile qui in piazza Vittoria dei volantini dichiaratamente razzisti e che incitavano all'odio contro i migranti contro i profughi che venivano dalla guerra questo non è possibile noi appunto vogliamo ricordare che scatenare linguaggi razzisti può portare a tragedie come quelle per esempio della Cateri Rades che portò appunto all'affondamento della nave con un centinaio di albanesi di donne e bambini cercare di pensare di portare avanti politiche emergenziali contro i profughi non è possibile. parlava delle diverse adesioni che sono arrivate proprio a questa manifestazione che segnale si può leggere proprio da questi attestati di solidarietà? possiamo leggere che finalmente qui a Brindisi si incomincia a riparlare di difesa della democrazia di antifascismo qui a Brindisi e vogliamo appunto e speriamo che questi temi vengano e siano parte integrante appunto di coloro che vogliono candidarsi a questa città. Voltiamo pagina l'associazione ambientalista Italia Nostra interviene sulla possibilità che l'UNESCO riconosca la piana degli olivi quale patrimonio mondiale dell'umanità e a tal proposito sollecita la regione ad intervenire con un vincolo definitivo che tuteli proprio gli olivi secolari. Francesco Rotti. Per i produttori immagino non ci siano particolari vincoli perché fra i tanti prodotti del nostro territorio il prodotto principale se vogliamo sotto tanti aspetti è l'olio in questi giorni si sta riproponendo il discorso della piana degli olivi patrimonio mondiale dell'UNESCO continueremo chiaramente ad esportare il nostro olio. Magari si potesse veramente dare una mano noi abbiamo come Italia Nostra abbiamo per tutto il 2011 trattato dei paesaggi agrari e naturalmente per noi di Ostuni del paesaggio degli olivi secolari e quindi abbiamo messo in evidenza questa difficoltà cioè quella dei produttori che naturalmente lavorano tanto però poi il riscontro del guadagno non c'è e quindi vorremmo che questo che si valorizzasse sempre di più la nostra piana degli olivi perché potesse essere ecco possa essere meglio un punto di partenza per far sì che la nostra economia agricola sia sempre più florida e a questo proposito si benvenga la richiesta che i comuni di Carovigno Stuni e Fasano insieme a Rotary hanno fatto della piana degli olivi come patrimonio dell'UNESCO anche noi come Italia Nostra siamo perfettamente in linea con loro e li aiutiamo anzi gli stiamo aiutando in un altro modo siccome il riconoscimento UNESCO è qualcosa che arriverà nel tempo molto in là allora ci siamo preoccupati del fatto che comunque la nostra zona industriale ancora non ha finito di espandersi e allora abbiamo chiesto alla regione il vincolo della piana il 28 di febbraio si discuterà l'ultima fase di questo e speriamo che la regione ci dia l'assenso il consenso al vincolo restiamo a Ostuni presso l'editorium dell'istituto tecnico agrario questa mattina si è tenuto un incontro preliminare per la costituzione del gas il gruppo di acquisto solidale aperto alla partecipazione delle diverse realtà associative che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile del territorio oggi è giusto una riunione come dire preliminare organizzativa ne stiamo capendo un po' di più anche su come organizzarci insieme agli amici del gas Gramigna di Mesagne che è un gas un gruppo di acquisto solidale già operativo nella provincia di Brindisi per portare anche in Ostuni questa loro esperienza principalmente ecco la presenza anche di Slow Food in questa in questa esperienza è molto significativa perché già da tempo Slow Food a livello nazionale non solo promuove questi gruppi di acquisto solidali tra i propri soci andando a selezionare determinati prodotti degni di essere commercializzati e fatti conoscere ai propri associati quindi il fatto che anche in Ostuni possa costituirsi questo gruppo di acquisto solidale credo sia una cosa abbastanza importante non dimentichiamo che all'interno del parco è nato un presidio Slow Food proprio sul pomodoro della Regina che cresce in ambiente di aridocultura ed è realizzato da comunità di agricoltori che si trovano all'interno del parco ma il parco in questi ultimi anni ha anche promosso tante aziende che producono olio dagli olivi secolari sempre in agricoltura biologica così come anche formaggi di animali al pascolo che decidono loro cosa mangiare dall'alba al tramonto e quindi sono formaggi che hanno i sapori e le caratteristiche tipiche dei pascoli mediterranei di questa zona il miele abbiamo fatto anche quest'anno del parco la pasta di grano duro della varietà senatore cappelli coltivata con metodi biologici dove abbiamo chiuso anche la filiera del prodotto in modo tale da ottenere pasta fresca quindi orecchiette cavatelli e quant'altro che sono ottenuti da grani coltivati direttamente su questo territorio e non da materie prime che possono essere ottenuti in qualsiasi angolo del mondo ecco un paniere di prodotti che molte aziende del parco e anche fuori dal parco mettono a disposizione per gruppi di consumatori che decidono di mangiare sano e soprattutto desiderano dare un volto e un nome e cognome a ogni prodotto che arriva sulla tavola e di nuova istituzione a Ostuni la scuola media Giovanni XXIII facente parte del terzo istituto comprensivo la scuola secondaria di primo grado offrirà alle famiglie un'offerta formativa innovativa queste le principali novità il tempo scuola prolungato e mensa per 36 ore settimanali che offrirà alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano un punto di riferimento per i propri figli il tempo normale per 30 ore settimanali il pre-scuola e il post-scuola lo sportello didattico finalizzato interventi didattici pomeridiani di recupero consolidamento e potenziamento l'integrazione di diversamente abili la scuola infatti intende dotarsi attraverso investimenti mirati di attrezzature tecnologiche peculiari e di esperti esterni qualificati e progetti ad hoc che consentano che la creazione di un polo specializzato nell'area di intervento sia effettivamente realizzabile e ancora intercultura trascultura e integrazione linguistica per consentire agli alunni e alle alunne di diventare cittadini del mondo il linguaggio del corpo una facilitazione per la crescita armonica attraverso le moderne discipline della bioenergetica e attraverso la valorizzazione delle discipline artistiche e ancora un centro sportivo attrezzato per mini volley mini basket calcio e atletica tanti laboratori di teatro musica informatica e lettura un interessante corso di giornalismo e un centro di ascolto e consulenza dalla Giovanni XXIII la scuola secondaria statale di primo grado San Giovanni Bosco sempre di Ostuni che in una nota ricorda ai genitori delle scuole primarie della città bianca che il giorno 26 gennaio scorso la regione Puglia ha deliberato il piano di dimensionamento della rete scolastica vale ribadire si legge nella nota che secondo la normativa vigente i genitori sono liberi di scegliere la scuola presso cui iscrivere i figli pertanto si comunica che le iscrizioni alle prime classi di scuola media si acquisiranno presso la segreteria della San Giovanni Bosco tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 i genitori sono quindi invitati a partecipare all'assemblea per la presentazione del POF che si terrà lunedì prossimo 13 febbraio alle 17.30 presso la scuola media San Giovanni Bosco voltiamo pagina nei prossimi giorni saranno numerosi gli appuntamenti in occasione del carnevale tra sfilate di carri allegorici e veglioncini in tutto il territorio fasanese al via le numerose iniziative in occasione del carnevale nel territorio di Fasano prima fra tutte il carnevale di pezze chella giunto alla 21esima edizione organizzato dall'associazione genitori pezze presieduta da Grazio Moretti sono tre le giornate nel corso delle quali ben cinque carri allegorici allestiti da gruppi e associazioni della frazione sfileranno per il centralissimo corso nazionale di pezze di greco domenica 12 e 19 febbraio con inizio alle 16.30 e martedì 21 febbraio alle 17.30 cinque i temi dei carri allegorici Arsenio Lupin libro della giungla carletto il principe dei mostri ispirati a noti cartoni animati la profezia dei maia per fare riferimento alla fine del mondo e il carro di uomini e donne sulla scia del noto programma televisivo di Maria di Filippi una sfilata che come ogni anno calamiterà migliaia di persone nella frazione fasanese da segnalare anche la sfilata di carri allegorici nel centro di Fasano a cura della parrocchia San Francesco d'Assisi il 16, 19 e 21 febbraio il carnevale in piazza a Pozzo Faceto a cura del circolo culturale e ricreativo Peppino di Carolo il 21 febbraio il carnevale in Viale Toledo a Selva di Fasano il 19 febbraio a cura dell'associazione Torretta e per finire il carnevalant veglioncino a cura dell'ant presso la galleria Simpli il 19 febbraio dalle 16 e 30 alle 20 insomma numerosi appuntamenti per la gioia dei bambini da Fasano a Locorotondo dove intanto è stato presentato il cartellone della stagione invernale varato dall'assessorato alla cultura del comune vediamo destagionalizzare l'offerta culturale anche nel periodo invernale con questo obiettivo l'assessorato alla cultura del comune di Locorotondo ha varato un corposo cartellone di eventi reso possibile grazie al supporto della banca di credito cooperativo e di Gas Natural pronto a mettere in scena musica e teatro nell'ambito del progetto Adotta la cultura che offrirà ai cittadini la possibilità davvero unica di partecipare gratuitamente agli spettacoli lasciando loro la libertà di contribuire solo con un'offerta a fine evento fondi che saranno riutilizzati poi esclusivamente per iniziative di natura culturale dunque proporre per investire in un ambito quello culturale sempre fondamentale per la crescita di una comunità stiamo sperimentando il lancio di questo progetto denominato Adotta la cultura il pubblico può decidere al termine dello spettacolo di contribuire dando un'offerta diciamo un simbolico acquisto del biglietto a fine spettacolo di sua spontanea volontà il fondo che si avrà da questi contributi servirà esclusivamente per finanziare futuri eventi culturali questo viene fatto appunto per sensibilizzare la gente perché è un momento di grosse difficoltà dove i bianci comunali non permettono grosse spese però con la collaborazione con la partecipazione di sponsor con la buona volontà nostra di noi amministratori e con la partecipazione e la disponibilità di gruppi compagnie teatrali amici ringrazio colgo l'occasione di ringraziare Filippo Carrozza e Roberto Russano che hanno collaborato con me per la stesura del programma devo dire che riusciamo a raggiungere risultati ottimi riusciamo a destagionalizzare gli eventi in effetti come potete notare abbiamo febbraio marzo e aprile ricca di eventi riusciamo a soddisfare un po' tutte le richieste di musica musical e cultura presentazioni di libri manifestazioni teatrali come ad esempio la compagnia teatrale Tete di Locorotondo che ci porterà il teatro invernacolo a Locorotondo abbiamo una fusione di due compagnie di Locorotondo il coro d'Egitria con il caro di Tespi ospiteremo a livello nazionale e chiaramente abbiamo anche degli ospiti di calibro nazionale come Marco Bagliani che ci porterà il suo famoso spettacolo Colas ospiteremo il regista Carlo Formigoni ci porterà Amleto abbiamo un nostro compaesano Filippo Carrozzo che ci porterà un suo nuovo spettacolo Due Mondi che presenta per la prima volta a Locorotondo grazie all'associazione Antifone e Jazz ritorno a degli eventi musicali qui a Locorotondo con Ettore Carucci al pianoforte e un quartetto di archi e ci sarà anche poi un trio musicale che vede un nostro compaesano Giovanni Angelini alla batteria ospiteremo l'orchestra sinfonica della provincia di Bari per intero e sarà un evento che ospiteremo alla chiesa madre San Giorgio Martire di Locorotondo ci saranno anche tra gli eventi culturali dei dibattiti di natura culturale un caffè filosofico anche che ho dimenticato di dire prima però stiamo cercando di diffondere al massimo il programma dove saranno specificate tutte le date e avrete modo di leggere appunto le varie date con tutte le specifiche che possono interessare a chiunque ci fermiamo qui con il TRCB Notizie ma subito dopo la pubblicità l'ampia pagina di Sport tra poco questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it